Ciao a tutti, mi chiamo Antonio Barone e il 2 aprile vi aspetto al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina per la rassegna in memoria di Federica Tropiano. Ringrazio di cuore l'Associazione 21 Passi per avermi voluto e invitato, insieme a me tanti altri colleghi, artisti e tanti giovanissimi talenti e danzatori che si esibiranno sul palco del teatro. Vi raccomando non mancate, è importante tenere viva la memoria e la passione per la danza e per l'arte che Federica Tropiano coltivava ogni giorno. Vi aspetto! Ciao ragazzi, sono Demis Autentitano, vi aspetto il 2 aprile al Teatro Scarpetta di Sala Consilina alla prima rassegna di danza Federica Tropiano. Mi raccomando non mancate! Ciao ragazzi, sono Gabriele Manzo e ci vediamo il 2 di aprile a Sala Consilina al Teatro Scarpetta per la prima edizione della rassegna di danza in memoria di Federica Tropiano. Volevo ringraziare l'Associazione 21 Passi per l'organizzazione dell'evento ma soprattutto per mantenere viva la memoria di Federica e ringrazio ancora Jennifer Stalia per avermi dato la possibilità di insegnare e conoscere questa fantastica ballerina che era brillante e aveva davvero tanta tanta voglia di danzare. Durante la manifestazione ci saranno degli attimi molto particolari come il flash mob in memoria di Federica, attimi speciali. Sappiate che nasce questa manifestazione per dare l'opportunità ai ballerini di continuare a danzare con borse di studio significative che verranno assegnate durante la rassegna. Quindi non mancate! È un evento che sarà indimenticabile! Ci vediamo lì! A presto! Ciao! Ciao! Sono Mauro Mosconi. Vi aspetto il 2 aprile al teatro Scarpetta di Sala Consolina. Prima edizione rassegna danza. Questo evento è dedicato a Federica Tropiano. Vi aspetto. Ciao! Ci vediamo il 2 aprile. Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Sono Natascia Brugman. Ci vediamo il 2 aprile a Sala Consolina al teatro Scarpetta per la rassegna di Federica Tropiano. Ciao! Ciao a tutti! Sono Vittoria Verdovino e vi aspetto il 2 aprile al teatro Scarpetta per la rassegna in memoria di Federica Tropiano. Vi ringrazio l'associazione 21 Passi e ci vediamo lì! Ciao a tutti! Noi siamo Zia e Nipoti. E siamo qui per dirvi che il 2 aprile saremo ospiti della rassegna di danza di Federica Tropiano organizzata dall'associazione 21 Passi. Presso il teatro Mario Scarpetta di Sala Consolina. Vi aspettiamo in tanti! Non mancate!